o il presidente nello musumeci è un utile idiota oppure è vittima di un attacco mediatico che è gravissimo oggi 25 di agosto la repubblica di palermo pubblica un articolo a firma di antonio fraschilla che è inquietante vi riporto solo alcuni tratti poi lo pubblicherò a beneficio di tutti in modo integrale e ieri il governatore guardando i dati sui contatti social fatti dai suoi video che chiudono la sicilia migranti gongolava come non mai soddisfazioni l'essere arrivata agli onori della cronaca nazionale anche perché con la mossa sorpresa di sabato scorso e quel di dichiarare guerra al governo conte in nome della difesa dei confini siciliani e degli stessi migranti rinchiusi centri a migliaia il governatore ha ottenuto anche un secondo obiettivo forse quella al quale il cuor suo tiene di più l'aver messo all'angolo il suo gran rivale nel fronte del centrodestra per le prossime regionali il sindaco di messina cateno de luca che pensava di essere lui il protagonista della lotta ai migranti e che preparava da giorni la grande chiusura del centro di accoglienza di messina con tanto di azione eclatante programmata per venerdì 28 agosto chiariamo intanto un fatto questo a beneficio di fraschilla ma anche di musumeci che non sa che lo spot di messina è stato chiuso anello svegliati svegliati per cortesia allora velocemente la storia il 15 luglio scorso c'è una fuga da pa dall'hotspot di messina 20 30 milioni non si sa quanto tanto sono ancora in giro il 17 luglio io ho fatto un'ordinanza di chiusura dell'hotspot perché ho dimostrato che non solo era inadeguato ma anche abusivo il 21 luglio la prefettura annulla la mia ordinanza ma il 2 di agosto qui c'è stata una concertazione ringrazio la prefettura viene chiuso l'hotspot di messina anello l'hotspot di messina è stato chiuso va bene cosa rimane lì rimane un'altra struttura è cas il 3 di agosto c'è la fuga stavolta dal cas e quindi escono un'altra ventina di migranti in giro per messina passano attraverso le case private mettono impauriscono la gente perché è ovvio che se di notte ti entra a casa con chiunque un bianco o nero non cambia ti metti paura e quindi ulteriore fuga e il 9 di agosto terza fuga sempre dal cas e dal centro di accoglienza il 10 d'agosto protesta eclatante da parte dei gli abitanti di bisconte e io vengo mandato dalla prefettura sono stato chiamato per andare a dire agli abitanti di bisconte che comunque anche il cas sarebbe stato chiuso alla fine del ciclo della quarantena che a conti fatti scade il 27 di agosto quindi si è concordato che il 28 di agosto si chiude anche il centro di accoglienza di bisconte non perché io ce l'ho con i migranti queste porcherie non mi appartengono perché a messina ci sono altri centri d'accoglienza non ho mai fatto la guerra e centri d'accoglienza deve essere chiuso bisconte perché è una struttura inadeguata non doveva nascere di questo centro l'ho voluto chiarire perché io non voglio essere messo sullo stesso piano di altri utili idioti che fanno politica su queste cose nascondendo le loro fragilità la loro inadeguatezza di governare perché io ne ho sollevate tante questioni caro fraschilla nei confronti del governo musumeci zero sui rifiuti abbiamo un immondezza ovunque per colpa di questo governo risaramento finanziario zero le risorse all'impresa non stanno arrivando e buon musumeci quindi che fa via la propria inettitudine a governare sui migranti purtroppo fa carne da macello non mi appartiene mi fa schifo questa storia bisconte va chiuso per questo motivo la sua ordinanza carta igienica del presidente musumeci è un problema suo e aggiungo un ultimo dettaglio inquietante sempre dall'articolo di fraschilla e chiudo musumeci da tempo covava una mossa sorpresa sui migranti che mettono a rischio la salute i siciliani ma sulla firma tentennava anche perché il suo stesso staff aveva più di un dubbio sui reali poteri di azione della regione in tema di accoglienza dei migranti ma sabato scorso una telefonata gli ha aperto gli occhi l'assessore girolamo turano lo ha chiamato e gli ha detto in soldoni che non si può essere scavalcati a destra dal sindaco di trapani il dem giacomo tranchita e da cateno de luca che da mesi aizza la piazza contro i migranti ma soprattutto contro musumeci che non fa nulla si musumeci che non fa nulla è turano che è uno degli assessori più scarsi di musumeci non mi appartengono queste storie ora il presidente musumeci o querela la repubblica perché lo sta facendo passare per un utile idiota ed è anche il mio presidente oppure se questa storia è vera musumeci dimettiti subito perché se stai facendo la guerra ai migranti per i motivi contenuti in questo articolo e allora dico che mi fa schifo mi fai schifo e i siciliani non meritano di essere strumentalizzati per queste motivazioni grazie a tutti